Quando mi è stato chiesto di partecipare a questo evento mi sono reso conto che è una bella occasione per esprimere così liberamente, ma anche in maniera pacata, intelligente, delle riflessioni. A me, come è ovvio, come immaginate, capita spesso di esprimere così il mio pensiero in vari tipi di consessi, di assemblee, sia ovviamente di natura religiosa che anche non. E allora avevo questo tema, il tema delle sovrastrutture che in qualche modo incombono sulla persona, sull'essere umano. Quando affronto un tema, a partire da una indicazione, da un titolo, cerco sempre di declinare, di andare a vedere un po' il significato delle parole, declinarle. E questo termine sovrastruttura, se andiamo a indagare un pochino, ci accorgiamo che fu per primo Karl Marx che l'ha usato, che indicava con questa parola tutto quello che si produce, tutto quello che è prodotto dalla letteratura, dalla filosofia, anche dalla teologia. Però poi Marx arrivò ovviamente a una critica radicale e faceva poi consistere tutto in questa sovrastruttura che diventa il male, diventa un po' una sorta di male assoluto e l'interesse economico. Intuizioni interessanti, l'ideologia diventa qualcosa che stringe, che stritola l'essere umano, poi lui come un po' tutti gli altri, poi si accorgono, ci si accorge nel tempo e nella storia che si cade, è molto facile cadere in questo discorso di un'ideologia che, anche se la volevi superare, ma di fatto poi ti intrappola. Dopo di lui, solo così, per citare qualche miniscenza degli studi dell'ultimo anno di liceo di filosofia, la scuola di Francoforte, Orkheimer, Marcuso, Benjamin, che in qualche modo in questa loro critica alla società, cito questi autori perché ovviamente, venendo proprio da questa parola, dal pensiero di Marx, loro l'hanno recuperata e l'hanno rielaborata. Una società in cui dicevano questi esponenti della scuola di Francoforte, da cui gli dei sono fuggiti, in cui si rischiava di considerare solo gli aspetti materiali della realtà, dimenticando la creatività, la spiritualità, perdendo tutto il resto. Facendo un passo indietro, un altro filosofo che a me è molto caro e che ho avuto modo a suo tempo un pochino di approfondire, di leggere, Kierkegaard, che nell'Ottocento pensava che struttura era per lui il tuffo totale, assoluto nella fede, che sola può eliminare quella spina nella carne di Paolina a memoria. Dico Paolina in riferimento a una lettera di San Paolo, precisamente la seconda di Corinzi, in cui in un passo particolarmente celebre, ma anche secondo me estremamente importante. San Paolo dice che gli è stata messa una spina nella carne per non montare in superbia, una spina il cui significato è aperto, non sappiamo, San Paolo non lo dice che cosa voleva dire con la spina, eppure è rimasta nel pensiero, rimasta nell'immaginario collettivo di tantissimi. E anche Kierkegaard sentiva premere questa spina nella vita fin dall'infanzia per colpe ereditate dal padre e l'unica soluzione per lui era quella di affidarsi a Dio, nei confronti del quale l'unico atteggiamento da avere era il timore e il tremore, anche qui un'espressione che ha dato il titolo a una opera molto famosa. Allora quando usiamo questa parola sovrastruttura pensiamo immediatamente al condizionamento e di solito gli diamo una connotazione negativa, perché nell'immaginario collettivo il condizionamento è un torto, una limitazione nei confronti della libertà e dell'autonomia, a volte resta come termine confuso, ambiguo, vari significati. Un condizionamento incide sul comportamento di ciascuno di noi e può arrivare al livello della coscienza, può ingabbiarci, può mettere in discussione quella che chiamiamo libertà individuale, libertà di coscienza e che credo tutti quanti pensiamo, la pensiamo come qualcosa di necessario, di importante. Quindi questa oscillazione, questa riflessione che stiamo facendo ci porta a pensare le due realtà, cioè condizionamento, sovrastrutture che condizionano o libertà dove siamo. Sovrastruttura quindi è quello che si mette in mezzo, si frappone come un muro alla realizzazione di una vita autentica degna di essere vissuta in quanto tale. Però ho sempre ritenuto e pensato questo, che ognuno di noi, io per primo ovviamente, quando nasciamo e siamo nati in un contesto particolare, concreto, fatto di cose e persone reali, tra l'altro senza sceglierlo, ci siamo ritrovati alla vita. Qualcun altro ci ha chiamato, per noi credenti siamo chiamati alla vita da Dio, oltre che dai nostri genitori. Per chi non crede, comunque ci siamo e siamo qui, non possiamo negarci. Allora, quello che ci circonda, quindi il luogo dove nasci e tutto quello che ti porta poi nel cammino della crescita a diventare quello che sei, tante cose si dipendono da noi, ma tante no. Gli insegnamenti che hai ricevuto, esperienze, situazioni che hai vissuto. Un piccolo inciso ricordo in maniera, e lo ricordo e l'ho detto tante volte, l'ho raccontato nell'esperienza quando sono stato parroco a Roma, tra le varie esperienze, parecchi anni, quasi dieci anni in una parrocchia di estrema periferia, dove purtroppo quando vedevo nascere certi bambini, parliamo di italiani, non parliamo né di stranieri né di altre situazioni diverse, italiani che quando nascevano, io li vedevo nascere in quel contesto e già sapevo che sarebbero stati indirizzati verso vie purtroppo negative, quindi delinquenza, eccetera, eccetera. Questo da una parte, quindi questo ti fa capire come la realtà in cui nasci non è un dettaglio, è qualcosa che ti determina, ti determinerà nella vita. Nello stesso tempo dobbiamo quindi fare un passo per non essere schiacciati da tutto questo. Allora dobbiamo anzitutto secondo me partire dalla consapevolezza che non esiste una libertà assoluta, che questi chiamiamoli tra virgolette condizionamenti non te ne puoi liberare totalmente e assolutamente. E allora ci dobbiamo chiedere, è tutto sbagliato, è tutto negativo, se io ambisco una libertà assoluta, tanto non la trovo, non c'è, non esiste. E allora come faccio? Papa Francesco ha coniato in un testo, che è stato un po' il suo testo fondativo, l'esortazione apostolica Evangelica Audium, la gioia del Vangelo, ha coniato un'espressione che è rimasta nell'ambiente ecclesiale molto, diciamo, usata, la realtà è più importante dell'idea. E' tra l'altro una delle quattro espressioni che sintetizzano un po' tutto questo lungo e corposo documento. Se ci guardiamo intorno e vediamo chi sono i nostri amici, chi sono le persone che ci stanno vicine, ci sono pragmatici e idealisti, quelli molto sempre concreti che guardano la realtà, quelli che vivono un po' nel mondo dei sogni, chi ha i piedi per terra e quelli che hanno invece la testa fra le nuvole. Allora qual è la strada migliore? Certo ognuno poi è fatto come è fatto e diventa difficile pretendere di cambiare la propria identità in senso assoluto. E allora il Papa Francesco in questo testo ce lo ricorda. Lui dice la realtà semplicemente è. L'idea si elabora. Tra le due si deve instaurare un dialogo costante evitando che l'idea finisca per separarsi dalla realtà. La realtà è superiore all'idea e questo implica di evitare diverse forme di occultamento della realtà. Perché peggio ancora è quando questa realtà non la vediamo. Chiudiamo gli occhi, mettiamo la testa sotto la sabbia. Sarebbe assolutamente sbagliato. Certo Papa Francesco dice, lo dice spesso, che sognare è una buona cosa, va bene, ma per andare avanti serve il confronto con la realtà. Perché la realtà è, esiste. E la realtà significa anche le persone, la mia famiglia, il mio paese, il paese dove vivo, la storia che mi ha condizionato e così via. L'idea è frutto di elaborazione, di elaborazione mentale, che rischia spesso di cadere così nei vaghi ragionamenti. Pensiamo anche a tante forme, la politica, anche i politici purtroppo tante volte formulano progetti, sì, chiari, precisi, ma che poi non si realizzano e quindi la sfiducia che ne deriva da parte anche di tanti di noi, della cittadinanza è anche questa. Insomma, è il principio di realtà. E per noi cristiani, almeno questo principio ha un fondamento chiaro, preciso, è il mistero dell'incarnazione di Dio. Sì, noi crediamo, noi cristiani, che Dio si è fatto uomo, che Dio, rimanendo Dio, è diventato come uno di noi, come me, come voi, immergendoci nella storia e nella cultura di quel tempo, di quel momento, nella cultura del tempo in cui Gesù è vissuto. Gesù era un ebreo del suo tempo, pienamente inserito nella sua storia. Allora, credo che a noi come esseri umani aspetti di far questo. Intanto guardarci intorno, lo ripeto, pensarci come in relazione con gli altri, perché nessuno di noi vive da solo, vive chiuso in una bolla. E allora bisogna fare un attento discernimento per non essere plagiati, orientati negativamente o annullati da alcuni piuttosto che da altri di questi condizionamenti. Insomma, bisogna guardarsi intorno e dire, ma quali sono le cose effettivamente negative, quelle che mi fanno male? Questa è la scelta di libertà che ogni individuo non solo può, ma deve fare. Non quella di liberarsi di una realtà che comunque già esiste prima di lui e si starà dopo di lui e che altrimenti, se non ci si mette in una relazione giusta, lo farà vivere, ci farà vivere, sempre in una continua tensione, in una continua insoddisfazione. E andremo avanti sempre con quel senso di oppressione che ci fa sentire che ci manca qualcosa che non abbiamo, che non riusciamo a realizzare. E allora dobbiamo trovare, come si dice, la nostra strada a fare di tutto affinché ognuno persegua quell'obiettivo, aiutandoci la solidarietà, che oltre a essere un valore cristiano è un valore umano. Cioè il fatto che ci dobbiamo, nonostante le privazioni di questo periodo, di questo Covid, ci dobbiamo dare la mano gli uni gli altri e sostenerci. Adesso lo stiamo vivendo per un'ennesima volta col tema dell'accoglienza dei poveri ucraini che scappano, che fuggono da questa terribile persecuzione. E allora dobbiamo mettere in relazione la parola condizionamento, la parola sovrastrutture. Le sovrastrutture, lo dicevo, generano i condizionamenti. Elencarli sì, potremmo dire, come già accennavo, quelli della nostra infanzia. Da quando nasciamo siamo immersi in quelle esperienze che ci orientano, l'educazione familiare, la scuola, i gruppi, i mezzi di comunicazione. Questi sì. Questi ovviamente se ne parla tanto, se ne discute, perché effettivamente oggi sono diventati un nuovo mondo, una nuova realtà nella quale tantissimi di voi, ci sono tanti giovani presenti, siete immersi, anzi come si dice oggi, ci siete nati in quel mondo. Noi no, noi ci stiamo approcciando a quel mondo perché senza quel mondo sei fuori. Ma nello stesso tempo chiaramente non cogliamo alcuni aspetti che voi giovani, ma credo in modo particolare, lo dico spesso, ai ragazzi, anche agli adolescenti, anche su questo fare un grande discernimento. E questo bisogna imporselo, decidere di farlo e basta, perché altrimenti non si va avanti. L'umanità si interroga non solo su come funzionano le cose, ma anche sul perché. E a questo proposito un accenno, anche secondo alcuni, anche secondo Marx, visto che l'ho citato all'inizio, la religione era una sovrastruttura. Però la religione, l'esperienza della fede, non sono solo una delle sovrastrutture o presunte tali tra le altre. Certo perché non c'è nessuno, anche la persona più laica, anche uno credente, che non sia chiamato a interrogarsi da dove viene, dove va, le famose domande fondamentali. Perché sono nato? Perché esiste il male? Perché ci sono le guerre? Perché un uomo si sveglia la mattina e decide di distruggere, di uccidere? Domande che restano, che alleggiano nel nostro immaginario, nella nostra mente, ma anche che toccano la nostra realtà. E dicendo condizionamento, diciamo, a qualcosa di negativo, di spregiativo. Condizionamento a volte è un torto, un abuso, proprio nei confronti della libertà, lo dicevo. Ma d'altra parte libertà e autonomia sono anche valori dominanti della cultura, della cultura in cui viviamo. Ben venga, guai a non credere in questo, in una libertà che non sia una libertà astratta, ma una libertà concreta. Quella che mi fa diventare attore protagonista di una vicenda, la mia vicenda umana. Quella che svolgo, quello che faccio, se sono uno studente che vado a scuola, se sono un lavoratore che faccio il mio lavoro, protagonista, proprio spinto da questo interesse, da questa emozione. Il condizionamento ovviamente blocca, frena e quindi si esercita verso il comportamento, può andare a livello della coscienza addirittura. Lo sappiamo. Anche si sente dire, dici questo perché sei condizionato da tua madre, oppure pensi questo perché la tua educazione ti ha educato in questo senso. Ricordo solo un inciso. Quando ho deciso di entrare in seminario dopo il liceo, avevo neanche vent'anni, io ricordo i miei genitori, tra virgolette, brave persone, e di dove tutto ci mancherebbe, si opposero. Dice, no, tu sei condizionato dall'ambiente, da quello stile, dall'oratorio che frequentare, eccetera. Forse, e io mi sono detto sì, forse sarà così, ma io spero che questo condizionamento per me sia l'orientamento della scelta migliore della vita. Fino ad ora, devo dire, non mi sono mai pentito e ringrazio Dio di aver fatto quella scelta, in qualche modo. Allora tutto ci condiziona, sì, la pubblicità, la moda, parlavo della comunicazione. Anche qui dobbiamo però veramente sviluppare la nostra capacità critica pensando che tutto quello che abbiamo noi lo dobbiamo mettere in gioco nella maniera migliore. Non appunto fare questi artifici, questi voli pindarici pensando di risolvere tutto da un punto di vista così decisionale. Basta, io mi estraneo dalla realtà. Anche questo l'abbiamo visto nella storia, nella storia del pensiero, le utopie, come venivano chiamate, vivere in un mondo diverso, in un'isola deserta. Ma non funziona, non ha funzionato e non ha mai funzionato tutto questo, anzi. A noi ci è chiesto di entrarci, di starci dentro in questa realtà, anche quando è nuda e cruda, anche quando è una realtà di guerra. Questo non significa andare, ovviamente non avrebbe senso, se avesse senso ben venga a farlo, anche il coraggio di muoversi e di fare scelte importanti. Quindi spero che, insomma, che tutto questo veramente ci aiuti e ci faccia pensare che alla luce delle nostre scelte, che alla luce delle nostre decisioni, nonostante i condizionamenti, un mondo migliore è possibile, anche grazie a tutti quanti noi, a ciascuno di noi. Grazie.